sembra un campo ribelle quante macchine massacrate l'acqua di quelle cascate è pulita il flusso è bloccato dalla diga dobbiamo eliminare i ribelli prima di ogni altra cosa due contro molti per salvare le paludi esplosione la vampa dove il problema è che allora c'è questo che io dico col focus va bene anticipare bla 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 per pianificare eccetera ma nel più nemmeno quando sono macchina che hanno mille punti a un certo punto vorrei bisogno di cambiare di cambiare l'obiettivo no c'è una cosa proprio con questo che c'è anche la gente ok era lì solo per far scena perché poi adesso non è più lì sapevo che i palustri venivano a cercare questo posto veleno rosso li ha rammolliti te la strappo quella lingua ferma addio 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 segretezza c'è questo scemo qua attaccato subito scusa almeno questo è il fatto che i c'è un luogo un bel 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 E' un po' c'è un cavo Devo colpirla Beh Mi... Diversi l'ai di qua ok 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 è la mia gente è il raggio no 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 ok 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 E' molto utile E' un 60? E' indietro Allora, l'idea umane mi sembra cambiata Però non sono sicuro Maschino, l'ho scritto lì Si rompe, oh Adesso si inizia a riluminare Cos'è? Dello cartiglio Cosa ci facciamo lì, quella roba lì? Sembra un campo ribelle Quante macchine Massacrate L'acqua di quelle cascate È pulita Il flusso è bloccato dalla diga Dobbiamo eliminare i ribelli Prima di ogni altra cosa Due contro molti Per salvare le paludi Non fatevi sfuggire macchine o palustri Per salvare le paludi Qua la vedo veramente tosta Poi adesso con il discorso delle risorse Non so se come al solito Ci ha consumato tutto Però il problema è Se io sto agendo in segretezza Perché te ti metti a attaccare? Cioè la nostra segretezza è andata a quel paese Bello 30 Sapevo che i palustri venivano a cercare questo posto Era da mangiare con l'apri Ma non usciamo Trappo quella lingua Calma Tecca Ehi Affrontami ora Si comincia Chi sei? Uccidetemi Ma vedo Già cosa è stato Cazzo Ahi c'è qualcosa o? Non è morto? 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 Oh, sta sparando Cazzo Quello che dicevo è che se Ah, per me è un po' troppo Per me non ce la si fa Guarda che ha fatto di nuovo un prezzo Cioè Che cazzo di a lungo c'hai Secondo me non si può fare La di queste difficoltà qua in questo momento non si può fare Perché sto dicendo Se poi muoio da rogo l'artiglio Che morirò da rogo l'artiglio Devo farti con la capa immagino Però mi stiamo facendo un cazzo No, 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 no Eh, vengo lì Va, bambai Eh, dove c'era il coso? Mi sa E questi geni hanno fatto un percorso per risalire Allora, dove? Cazzo Ma dai Ma che cavolo mi si hanno fatto? Tieni, stanno tutto perfettamente Dobbiamo ancora morire da rogo l'artiglio Potremmo usare lo scuro Però Ma che percorso stupido Ci ribelle E la loro macchina Va bene Cosa è questo rumore? Spuri impazzito? Allora Allora, noi stiamo facendo un cazzo Addirittura il corpo silenzioso Non gli ha fatto niente Voglio dire, ma che cos'è? Non è ancora morto, tra l'altro Oh È una vertiglia Oh, morto Questa è fatica per un cazzo Cosa società Eccolo Io Allora Allora Sam Ed He ma che poi non ha niente di umano per questo ne ha fatto fuori tutta la solpruzza di medicina mamma io non ho capito se è lui che spara ma dove è finita la nostra finta aiutante il babbo natale non ho capito se è lui che spara ma che spara ma che spara ma che spara ma che spara Oh che cazzo mi arrivano Mi arrivano di quelle bordate Ma cosa sarebbe stato? Sono cose esplosive di quello stronzolino Sperfisce la vostra? No, ho sbagliato Il problema Ah, che non ho più risorse Mi è andata bene No, che non abbacca Quindi? Ma noi facciamo niente Ma cosa devo farci? No, non è fattibile Non è fattibile? Non è fattibile, non è... Quante macchine Non gli facciamo danno, è sufficienza L'acqua di quelle cascate è pulita Il flusso è bloccato dalla diga Dobbiamo eliminare i ribelli prima di ogni altra cosa Due contro molti Per salvare le paludi Ah, è quello lì che rompe le pane Non è credibile Io non so cosa farci perché Quello che fa l'acido è quello Non è che abbiamo qualcos'altro 80 Ma abbiamo già visto Non gli fa su... Cioè non gli riempi lo status Questo c'è una prova Vediamo l'edificio Vediamo la curiosità anche Vediamo che differenza c'è La lingua Calma, Tecca Vediamo il momento Vediamo il momento Vediamo il momento La mia lama è sempre pronta a combattere La mia lama è sempre pronta a combattere No, no Ora mio O c'era un ceffo là sopra Qualche parte O c'era un ceffo là sopra O c'era un istantissimo Camminando nel 12 Non mi sembra tanto Non mi sembra tanto Differente in realtà Allora perché mi dici Che questa è questa Ma No Aloy, tieni qui Carica con queste Resisti Non mi sembra tanto Andiamo a vedere l'arma lì Sputazio Questo potrebbe invece andare bene con quell'altro Sputazio 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 Ah, che perfetto. Oh mio, in realtà, perché non c'è poi nessuno adesso? Oh mia, madonna, lo sono tutti gli altri, ah, sono là sopra, perché cambia anche il numero di persona, non cambia chiaro, ma no, si è spostata l'ultimo. Dove è l'arma? 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 Ah, do not. come on la scarica cioè per me sono 5 per loro sono infinite ma io volevo cosa razzatore aspetta 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 ah il quadrato risposte almeno allontanati dai che voglio usare quello del razzatore tutte le mani tutte le macchine acquisizioni uccise beh sì beh sì abbiamo visto che è nettamente diverso ma quello che mi faceva impressione è l'assenza completo di danni che facevamo al capo oh no no ho ancora capito se è più aggressivo o meno aggressivo sembra di sì sembra stato anche meno numero il problema è che tra me e me cioè quello che mi viene a pensare mi viene a pensare poi davvero puoi davvero potenziare così tanto l'arma da far qualcosa è questo che ho trovato qualcosa l'ho capito ho trovato qualcosa è sospetto inizio perché noi comunque voglio dire l'arco lì dove è questo vabbè non l'abbiamo mai impotenziato ma qui non si può vedere poi controlliamo quanto può salire di di danno ma torniamo a un punto quello che sembra è che se tu vuoi giocare è molto difficile devi farmare come un matto a parte che comunque c'è il limite delle bacche che fa cioè è troppo sono troppo poche le bacche che ti porti appresso poi certo le puoi raccogliere più o meno qua sì se hai il tempo di farlo se ti lasciano poi va avanti mili anni mili anni ripetete queste cose allora di nuovo un frizz ma non faceva queste cose ma perché fa quelle cose lì qualcosa legato alla rete potrebbe essere anche legato alla rete mi dà un'occhiata qui ho trovato qualcosa Aloy dimmelo 800 volte perché lasciare questa cosa vicino alla diga qui mi dà un'occhiata qui mi dà un'occhiata che mi dà un'occhiata che qui mi dà un'occhiata